Musica Musica Salta il concorso ittico internazionale Per la prima volta Pinerolo non ospiterà più i consueti concorsi IPC nazionale e internazionale. Questo è il risultato dopo il bando per la realizzazione della scuola di equitazione di Abbadia Alpina che avrebbe dovuto ospitare i concorsi IPC. E invece la ditta che si è giudicata il bando, l'habitat di Vigevano, non ha le carte in regola e il bando è diventato così nullo. In comune stanno facendo di tutto per accorciare i tempi. I lavori sono stati assegnati alla seconda azienda classificata, Fratelli Paonesse e Giuseppe Cusinato, con sede legale a Torino, che con 2 milioni e 438 mila euro, entro 15 mesi dovrà far diventare funzionale e questo importante polo. Ma a questo punto servirà un miracolo per terminare i lavori in tempo ed ospitare così il concorso IPC internazionale in programma per dicembre. Più probabile che i concorsi vengano spostati. Ruba 400 kg di rame, arrestato I carabinieri di Cumiana, dopo un breve inseguimento, hanno arrestato un rumeno che, insieme ad altri due complici, fuggiti attraverso i campi, si sono resi responsabili del furto di 400 kg di rame. Tutto recuperato e restituito al proprietario per un importo di 12 mila euro. Il rame era stato rubato all'interno della ditta Trissi Immobiliare di None. Cavour, furto in casa Ieri pomeriggio, intorno alle 15.30, due ventenni, uno a Dominicano e uno alberese, dopo aver forzato un ottolino nella porta di un appartamento di una persona anziana, sono entrati all'interno. Quando si sono accorti che c'era il proprietario, sono scappati. Sono stati così avvisati i carabinieri di Cavour, che hanno inseguito i due per le campagne. I giovani sono stati arrestati per tentato furto aggravato in abitazione. Ruba un tablet perché tutti i suoi amici ce l'hanno. Ha rubato un tablet perché era l'unico della sua comitiva a non averlo. Uno status symbol a cui non voleva rinunciare. E così ieri sera alle 21 in Vianizza a Torino, all'interno di Saturn, i carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato un diciannovenne di None per rapina impropria e perché ha cercato di rubare un tablet del valore di 500 euro. Il ragazzo marocchino è stato visto dagli addetti alla sicurezza e gli ha aggrediti per poter fuggire col bottino. Dovevo averlo anch'io il tablet, come tutti i miei amici. Ero l'unico della comitiva a non averlo, ha dichiarato il marocchino ai carabinieri che lo hanno arrestato. Grazie a tutti.